Bene, innanzitutto un ringraziamento a voi tutti che siete qui oggi e vedo molti amministratori, ci sono stati in che ieri, vedo sindaci, vedo presidenti di comunità di valle, vedo alcuni consiglieri provinciali che ringrazio di essere qua, vedo parlamentari che ringrazio di essere qua, i rappresentanti delle categorie, il mondo dei sindacati, anche il mondo degli ambientalisti, credo che oggi ci sia uno spaccato importante della società trentina, anche un esempio di unità, un esempio di unità che oggi viene qui a discutere di tematiche che ovviamente riteniamo evidentemente importanti per il nostro territorio. Credo che in questi 72 momenti di dialogo che ci sono stati con i diversi territori si sia vista fortemente l'orgoglio trentino anche, l'orgoglio trentino di terre che dicono voglio dire la mia, di persone che dicono voglio dire la mia, voglio provare a dare un indirizzo, una visione, una strategia per il trentino dei prossimi, io dico 5, 10, 15 anni nella sua veste di problematiche che riguardano, qui lo abbiamo chiamato gli stati generali della montagna, ieri l'ho voluto definire come quei territori dove magari è un po' più difficile vivere, è un po' più difficile lavorare. Però ho apprezzato anche la presenza oggi di sindaci delle grandi città, c'è il sindaco del comune di Trento, c'è il sindaco del comune di Pergine, avevo visto il direttore generale del comune di Roveretto per capire comunque che oggi parliamo del trentino, sia chiaro, parliamo del trentino e parliamo che determinate sfide di cui oggi parliamo noi parlando di montagna, però le dobbiamo cogliere insieme, le dobbiamo fare nella complessità tutta del trentino e quindi anche delle grandi città, noi le abbiamo anche coinvolte in questo percorso sapendo che ci sono ovviamente problematiche diverse e anche sensibilità diverse su tematiche come queste. Nei territori sicuramente sono uscite, prima dicevano la lista della spesa, sì, su determinati territori giustamente sono uscite anche le piccole problematiche o grandi problematiche di quel territorio, però credo che oggi, avendo capito e ieri, avendo capito quello di cui si è parlato, sono arrivati sul tavolo elementi generali che riguardano la complessità del rapporto valli rispetto al fondo valle e non sono uscite oggi diciamo questioni puramente locali perché sarebbe stato anche forse sbagliato e questo credo sia un forte valore aggiunto. È uscito un forte senso di orgoglio trentino, prima diceva il professor Annibale Salsa, di volontà, di radicamento, che è anche un messaggio culturale. Su questo noi ci crediamo sia un messaggio culturale. Insegnare ai giovani che appartieni a quel territorio, che devi viverlo quel territorio, che lo devi far crescere, che lo devi far sviluppare, è un messaggio culturale, prima che amministrativo, prima che politico, è un messaggio educativo. E questo oggi credo che abbiamo fatto anche un po' di cultura, perché no? Anzi sicuramente cultura di provare a continuare a vivere su un territorio con le difficoltà che oggettivamente oggi ci sono. Ieri parlavamo del fatto che nel dopoguerra c'era una determinata situazione, ne siamo usciti perché l'autonomia trentina ha dato le possibilità di farlo, l'autogoverno ha dato le possibilità di farlo, il mondo della cooperazione ha dato le possibilità di farlo. Oggi la sfida è diversa, sicuramente, ma è anche con alcuni aspetti simile, perché stiamo parlando, se noi andiamo a guardare determinati numeri che per esempio riguardano la natalità nelle varie comunità del Trentino, vediamo che dove si nasce meno sono le valli. Si nasce meno rispetto a dieci anni fa anche a Trento e Rovereto, ma per questo è una questione che c'è, ma dove nasci meno sono le valli. E questa è la sfida che noi crediamo abbiamo davanti come Trentino, non come amministrazione provinciale, nel senso che adesso possiamo noi governare e ce l'abbiamo noi, ma è una sfida, credo, di tutto il Trentino che la dobbiamo vivere con un senso di unità. Oggi avere le categorie che dicono, e i sindacati, e gli ambientalisti, che dicono parla uno per noi, è tanta roba vuoi dire, è tanta roba perché è un senso forte di unità. Il Trentino che dice, guarda, le problematiche sono queste, abbiamo sensibilità diversa, ma va uno e parla uno. E questo anche per noi, che siamo amministratori, e lo è anche per i burocrati, come ha detto il dottor Nicoletti, è una sfida anche per noi. È una sfida perché siete riusciti a fare unità, a fare coesione. E questo vale, credo, anche per chi ha responsabilità amministrative. Proviamo a fare la sintesi di alcune tematiche di medio periodo che sono nate da questi stati generali, senza voler dire le affrontiamo domani, alcune le possiamo affrontare domani, altre le possiamo affrontare o le dobbiamo affrontare nel medio periodo. Primo, la natalità è la sfida principale dei territori di montagna, ma anche di altri territori. Qui lo dico come giunta provinciale, noi su questo tema vogliamo fortemente investire nella prossima legge di assestamento che sarà approvata nei prossimi giorni. Facciamo una prova, per cinque anni, mettiamo risorse nelle tasche di chi fa figli. Fai un figlio, 100 euro al mese. Ne fai due, più 120 euro al mese. Arrivi a fare il terzo nell'arco dei cinque anni, più 200 euro al mese. È una sfida. Vediamo se nei territori l'aspetto culturale di chi non fa figli c'è. Ok, va benissimo. Lasciamolo, perché uno può anche decidere. C'è chi non può, ma c'è chi decide, è ok. Ma chi non decide di non farlo per questioni economiche, noi non possiamo assumerci la responsabilità che tra 10-15 anni già la carenza che ci può essere di determinata manodopera sarà ancora maggiore, perché gli alberghi crediamo che possano essere quelli tra 15 anni. Ma se già oggi abbiamo difficoltà di trovare manodopera, cosa sarà se il trend sarà questo delle nascite in Trentino? Al netto ovviamente del tema dell'abbattimento delle rette degli asili nido. Secondo tema che è stato trattato dai vari tavoli. Il tema dei comuni. Il comune come presidio. Il comune come presidio, soprattutto nelle zone di montagna, che deve continuare ad avere la propria vocazione territoriale. Questo ci è stato segnalato essere oggi un problema. Il comune che ha problema di personale. Questo è, soprattutto nei più piccoli comuni, è un dato. È chiaro che noi non possiamo riaprire tutte le... possiamo dire che possiamo dare più personale ai comuni, però faremo un po' di demagogia, anche perché poi servono le risorse, ritorniamo a riassumere nei comuni come fu un tempo. Però crediamo che il comune debba investire nella propria informatizzazione, nella propria digitalizzazione e debba essere anche il comune di montagna il più possibile innovativo. Abbiamo realtà provinciali che fanno questo, pubbliche che fanno questo, dobbiamo usarle per fare questo. Deve esserci una volontà di trovare il personale all'interno delle strutture provinciali, all'interno delle società provinciali, per fare in modo che le risorse che già oggi spendiamo, perché le spendiamo, vadano nel fronte dell'informatizzazione dei comuni, nel fronte della digitalizzazione dei comuni. È una sfida perché altrimenti il sindaco del piccolo comune non te lo trovi più tra cinque anni, se va avanti così, perché non trovi più neanche il sindaco fra cinque o dieci anni se il percorso è questo. E crediamo che con queste realtà che già oggi ci sono in Trentino lo possiamo fare. Terzo tema, il tema che riguarda il mondo soprattutto della cooperazione, dei piccoli negozi di montagna. Fortunatamente abbiamo la cooperazione che permette di rimanere i piccoli negozi di montagna nelle realtà di montagna. Dobbiamo noi come amministrazione provinciale essere il più possibile vicino a queste tematiche. Già oggi l'amministrazione provinciale investe due milioni di euro all'anno su questo fronte. Siamo pronti ad ascoltare le richieste, gli input che arriveranno su questo fronte perché la forza del Trentino è anche avere chi riesce ad aprire i negozi nelle montagne, altrimenti il paese si spopolerà ancora di più. Terzo tema che è uscito è il tema sociale che riguarda le abitazioni. Oggi noi abbiamo in tanti comuni di montagna le case ITEA che non vengono assegnate. Allora crediamo che debbano essere assegnate il più possibile alle giovani coppie. Ragioniamo anche di darle, ed è un progetto sperimentale, anche a costo zero, perché tanto non ci sono, oggi non ci va dentro nessuno. diamole a costo zero a chi si impegna ad andare in quel paese di montagna, giovani coppie trentine, uguale poi natalità, è sempre quello il fronte, famiglia, società, dove si vuole investire. Ragionare anche, visto che c'è lo spopolamento dei centri storici, delle zone di montagna, che se ITEA deve decidere di fare nuovi investimenti in nuove strutture, lo può dover fare in quelle realtà dove, in montagna, dove il centro storico è in difficoltà, prendi un immobile e lo ristrutturi, voglio dire, già lo fa ITEA, cerchiamo di favorirlo su quelle realtà per mettere a disposizione sempre delle giovani coppie. Dobbiamo provarci per capire se questo è un percorso. Fare artigianato, fare industria, fare commercio in montagna è diverso, fare l'artesan a Sagromis è diverso che farlo a Roveredo, siamo tutti d'accordo. Noi abbiamo gli strumenti della leva, diciamolo, fiscale, per poter dire IRAP e IMIS ragioniamo su una fiscalità di montagna. Allora, introdurre, chiamiamolo un coefficiente, un indicatore che tenga conto che in determinate zone del Trentino, che sono spesso quelle di montagna, fare determinate attività costa meno e allora ragionare su dare una fiscalità, per quello che può fare la provincia, ovviamente diversa. Questo lo possiamo applicare su tutti gli indicatori, anche su quello della natalità di prima. In quel comune là, tu sei un comune diverso dagli altri, posso pensare di dare ancora di più se tu vai a vivere là e vivi là per fare in modo che nascano dei figli là. È un tema, un indicatore di montagna sulla ripartizione e sulle scelte delle politiche sociali. Tema della filiera, agricoltura, turismo, commercio. Crediamo che, lo hanno detto anche prima, il tema della filiera sia centrale. Dobbiamo riuscire a vendere il Trentino il più possibile. Fare in modo che chi viene in Trentino vada negli esercizi, negli alberghi, nei ristoranti trentini e che possa avere la possibilità di consumare il più possibile Trentino. Perché poi una filiera è un'economia circolare che si mette in moto. Questo è uscito fortemente dai tavoli la volontà di parlare dei prodotti a chilometro zero all'interno delle strutture trentine. Tanto è stato fatto sicuramente sui marchi di qualità e quant'altro, però ragionare su e di identificare quel pubblico esercizio, quel pubblico esercizio là, quell'albergo, quel ristorante, quel bar, è un bar dove vende prodotti trentini. Identificarlo come marchio, ne vorremmo parlare con le categorie, perché questo poi noi possiamo lavorare come provincia, credo anche eventualmente come categorie, come promozione di questa idea. In tema agricolo è uscito il tema del riordino fondiario per i giovani, cioè mettere a disposizione dei giovani i terreni, perché oggi ne è uscita fortemente la necessità, e ragionare come regioni alpine sul tema agricolo, sul tema della montagna, di fare lobby, è uscito anche da chi l'ho detto prima, di fare lobby per difendere le particolarità dei territori alpini che sono diversi da quelli dell'Italia centrale, definiamola così, e quindi la lobby la devi fare, magari come Trentino dobbiamo magari prenderci anche l'impegno di lavorare su questo. Un tema che è uscito è il trasporto, è uscito in tutti i tavoli, in tutti i territori. Trasporto che vuol dire? Trasporto ferroviario, trasporto autobus e anche, lo voglio dire, trasporto digitale. Noi siamo indietro sulla fibra, il Trentino è indietro sulla fibra. Non nascondo che certe iniziative della giunta provinciale nei confronti di Trentino digitale fatte negli ultimi settimani vorrebbero, e non ci sono riusciti, però vorrebbero accelerare. Siamo indietro e non c'è dubbio che occorre accelerare, però dobbiamo avere la possibilità di farlo perché quelli lo gestiscono e vorremmo anche poter dire la nostra su come fare per riuscire ad accelerare. Finora non ci siamo riusciti perché credo che le cronache le abbiate lette un po' tutti. Però qui lo dico agli albergatori, agli artigiani, agli industriali che ce lo chiedono quotidianamente. Sul tema della fibra questa è la situazione che c'è oggi. Il forum della ricerca che è nato ci dirà anche qualcosa sul tema 5G e banda larga, ma aspettiamo i risultati. Sul trasporto il Trentino rispetto alla Svizzera è indietro sulle modalità di cadenzamento del trasporto fra le città e le valli. Ecco, credo che se noi ci facciamo, e guardo Dottor Nicoletti perché poi bisogna trovare le risorse, ma se oggi abbiamo 35.000 passeggeri al giorno sugli autobus trentini, noi possiamo pensare di arrivare a 40, 45, 50. Credo che con un investimento nel quinquennio di un paio di milioni all'anno, ce lo dicono ovviamente Trentino Trasporti, questo si riescono a fare investimenti sul cadenzamento tra città e valli che può essere utile per chi viaggia, può essere utile per il turismo, può essere utile anche per l'ambiente, perché ovviamente può essere utile anche per l'ambiente. E poi c'è il problema dell'ultimo miglio del trasporto. Cioè, chi vive in montagna, l'autobus arriva nella frazione e non arriva nell'altra frazione e metterlo a disposizione come società ti costa troppo, non è sostenibile. E allora ragionare sul privato che può intervenire anche a chiamata su questo fronte, è già stato fatto in alcune realtà, ma questo è un servizio per le valli, perché nelle valli questo può essere importante. E poi c'è il tema della ferrovia, perché noi ragioniamo sempre sulla ferrovia, quella classica che passa nel fondo valle, abbiamo la Trento Malè, ok, però il tema della Rovereto Riva e il tema della ferrovia delle valli dell'Avisio è un tema, è chiaro che un problema di risorse, che ovviamente non ne disponiamo, però credo che la volontà, e c'è anche il tema dell'elettrificazione della Valsugana, la volontà di andare da RFI e chiedere le risorse ce l'abbiamo, la stiamo portando avanti, occorrerà ovviamente collaborare, l'Alto Adige ha fatto qualcosa di più, questo bisogna dirselo, perché è giusto dirsi come stanno le cose su questo fronte, però noi non siamo vuoti sul tema trasporto ferroviario anche per questioni ambientali. La scuola, è uscito forte il tema dell'alternanza scuola-lavoro, che non c'è il collegamento, o meglio non c'è, bisogna aumentare il collegamento tra il mondo del lavoro, industriale, artigianale, alberghiero, commerciale, è il mondo delle scuole, cioè questo è un tema anche all'ordine del giorno, perché vediamo che determinati lavori non si trovano, dobbiamo far passare il messaggio culturale, che non è obbligatorio che tutti facciano l'università, perché può essere che se fai l'università non trovi lavoro, e se invece fai l'istituto tecnico poi trovi il lavoro, avrai le risorse per mettere su una famiglia, per crescere professionalmente e per far crescere la famiglia. Questo è un messaggio culturale che deve passare nei nostri giovani e anche nelle famiglie, lo dico da padre, sia chiaro. E su questo, alla fine, altrimenti il percorso è che nei nostri artigiani, i nostri industriali, i nostri albergatori, i nostri commercianti, i nostri esercenti, da qui a 10-15 anni, la situazione magari è peggio di questa. E dopo riscendono a verghe e pugni anche alle imprese, questo è il dato, se non riusciamo a collegare questo tema. È un tema molto, devo dire, uno tra i più usciti ai vari tavoli. Questo dell'alternanza scuola-lavoro. E le scuole, per quanto riguarda il tema della montagna, noi l'abbiamo detto, crediamo che non dobbiamo guardare i numeri, una scuola di montagna deve rimanere, qui non è un problema di costo, perché tanto gli insegnanti li paghi lo stesso, la struttura c'è lo stesso. È un problema, se ci sono i genitori che vogliono mandare in quella piccola scuola 10 alunni di montagna, gliela lasciamo. Poi se i genitori non lo vogliono mandare, perché credono che l'educazione debba essere diversa, vabbè, ok, è una scelta. Però su questo è un tema che non serve neanche che andiamo a chiedere tante risorse al dottor Nicoletti. Infrastrutture, dico simpaticamente. Infrastrutture. C'è il tema delle infrastrutture, chiamiamole delle grandi infrastrutture che servono, e noi abbiamo detto, crediamo che serva fortemente un investimento pubblico sul tema infrastrutturale, che vale sia per il Trentino in generale, ma anche per determinate zone del Trentino. Ecco, è chiaro, nelle varie valli è uscita la circonvallazione di X, la circonvallazione di Y e la tangenziale di Z. È chiaro che questo, se vogliamo che i territori, magari quelli turistici, siano il più possibile competitivi, serve investire anche sulle infrastrutture e su quei territori. Perché altrimenti il turista è un'altra parte. Questo dobbiamo cercare di parificarli e forse poi determinate, diciamo, avanzate di iniziative che magari possono sembrare non logiche rispetto al tema ambientale, riusciamo a equilibrarle allora. Perché se un territorio è indietro, poi il territorio ha bisogno di iniziative che a volte magari possono essere capite poco, però gli hotel bisogna impienirli al fine settimana, non è che potremmo stare lì a dire che è allora. Credo che serva la sfida dei 10-15 anni, no? De domani mattina, sia quello di riequilibrio delle possibilità nei vari territori turistici di avere una situazione infrastrutturale il più possibile equilibrata. Noi come Giunta ci siamo presi l'impegno di provare a fare una grande opera all'anno. Una grande opera vuol dire che costa 60-80 milioni di euro, tanto per capirci. Una grande opera all'anno. Questo ci proviamo e ci proveremo. Il tema ambientale, la manutenzione e la valorizzazione della montagna. Vaia ci ha insegnato che un euro speso in più, in Trentino è stato fatto tanto, sia chiaro, però un euro speso in più non è mai sufficiente sul tema della sicurezza ambientale e della tenuta del territorio. Questo occorre continuare ad investire, questo è uscito dai tavoli, l'abbiamo sentito prima, l'ha detto anche gli ambientalisti, è uscito dai tavoli ed è un tema su cui occorre il più possibile investire. Tema sociale, tema sociale e chiudo, tema sanitario. Noi crediamo che i presidi ospedalieri, ovviamente, debbano rimanere, penso sia chiaro questo, con la sua strutturazione che c'è oggi. C'è il problema dell'anzianità, qui crediamo sia forte lo spirito che deve metterci anche noi come Giunta Provinciale abbiamo la fortuna di avere la cooperazione, crediamo che sul tema del welfare, anziani, che è un tema dove occorre investire fortemente, il tema del co-housing è uscito a tutti i tavoli. Tema della burocrazia, ne ha già parlato il dottor Nicoletti, dobbiamo fare ancora di più rispetto a quello che è già io chiudo qua, ringraziando tutti, auspicando fortemente questo senso di unità che abbiamo visto oggi e questa volontà dei territori di dire la loro. Credo che l'operazione ascolto fatta a inizio di legislatura sia un'operazione anche, passatemi il termine, onesta, nel senso che fa cinque anni questa Giunta Provinciale sarà misurata sui temi e credo che oggi il Trentino qui davanti abbia dato, e dietro, abbia dato un forte senso di unità e di orgoglio Trentino, di forte spirito di autonomia, di poter credere che il Trentino di domani sarà quello di ieri per chi vive in Trentino e per chi vive nelle montagne. Ringrazio Giovanni Gardelli e il suo gruppo per quanto hanno fatto in queste settimane e concludiamo qua in perfetto orario. Grazie.